Goran Shield il mare di Icaro il piacere della libera navigazione unito a quello delle memorie mitologiche questo viaggio non dice soltanto avventure di mare ma anche racconta storie e antiche monumenti e miti così non ci si muove soltanto nello spazio ma anche nel tempo in una continua altalena di vita vissuta e di vita ripensata l'itinerario della navigazione tra Grecia e Libano e le isole sembra fatto apposta per smuovere la fantasia Goran Shield è nato nel 1917 a Helsinki ma appartiene alla minoranza di lingua svedese è laureato alla Sorbona partecipò alla guerra russo finlandese del 3940 e fu ferito critico letterario ed arte ha scritto romanzi saggi e anche libri di viaggio ha sempre navigato a bordo dello yacht Daphne portato nel mediterraneo attraverso fiumi e canali francesi i suoi libri sono stati tradotti in nove lingue